Alla fine a Giarre sarà il Consiglio Comunale a votare i tre piani di lottizzazione stasera. Così ha deciso nel proprio parere il segretario generale del Comune, Rossana Manno, in contraddizione con quanto sostenuto dal dirigente della quarta area, Venerando Russo, che invece propendeva per restituire i piani di lottizzazione in giunta. Alla fine la Manno vince il braccio di ferro e stasera il Consiglio Comunale dovrà pedalare in buon ordine. Oltre ai tre piani di lottizzazione è quasi certo che si voti anche l'atto di indirizzo proposto da Salvo Camarda di Giarre Futura sulla viabilità e probabile che si votino anche le due mozioni del capogruppo di articolo 4, Raffaele Musumeici, sulle fontanelle e sulla manutenzione delle strade. Oggi in conferenza dei capigruppo il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Longo ha chiesto che stasera vengano smaltiti quanti più punti possibili perché a breve all'ufficio di Presidenza potrebbero arrivare i riconoscimenti di debiti fuori bilancio che ovviamente finirebbero per avere la precedenza.